Sono 221 le richieste pervenute da operatori commerciali per l'acquisto di spazi espositivi all'interno della fiera che si svolgerà in concomitanza con le festività patronali in onore di Sant'Angelo Martire in programma all'inizio del mese di maggio. 142 sono pervenute entro i termini di presentazione, 79 fuori dai termini. A darne comunicazione per mezzo di una proposta di determina dirigenziale è il Dipartimento Servizi Finanziari di Palazzo di Città. La graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera mercato è stata approvata. Preso atto che sono stati effettuati i controlli di merito su tutte le richieste presentate, si legge nel documento pubblicato dal Dipartimento, benché l'istruttoria non sia ancora terminata, si reputa opportuno sulla scorta delle dichiarazioni rese di inserire gli operatori in graduatoria, fatta salvo all'esclusione qualora dovesse pervenire un riscontro negativo o non dovessero provvedere al pagamento della quota di partecipazione. L'assegnazione definitiva sarà comunque vincolata l'effettiva disponibilità degli stand. Come si ricorderà, l'anno passato per la prima volta è stato tentato l'esperimento della creazione di una fiera sotto forma di stand che vennero collocati in Corso Umberto e in una parte di Corso Roma. Stand che erano stati acquistati dal Comune e successivamente affittati ai commercianti. Non mancarono nell'edizione 2014 delle festività patronali momenti di tensione con diversi commercianti che non videro di buon grado le nuove disposizioni emanate dal municipio.